Bentornati e buon Ferragosto a tutti. Un giorno un po' particolare perché oggi, oltre alla scomparsa di quel grandissimo artista che è stato Gianfranco D'Angelo, che voglio ricordare e immagino, insomma, tutti quelli che hanno la mia età, ma forse anche i più giovani, lo ricordano con affetto. E' stata anche la giornata dove ci ha salutato Ger Müller, uno dei più grandi centravanti della storia di questo meraviglioso sport, protagonista di tantissimi momenti fondamentali del calcio, soprattutto ricordiamo la mitica semifinale dell'Azteca tra Italia e Germania, ma poi per lui anche e per la sua nazione la vittoria nella Coppa del Mondo del 74 e poi anche i campionati europei del 72. Insomma, un giocatore veramente straordinario, uno dei più grandi bomber della storia che oggi ci ha lasciato dopo aver vissuto anche una seconda parte della sua vita, quella al di fuori del campo e del calcio, particolarmente difficile e complicata. In ogni caso, cerchiamo di tirarci un po' sul morale, a dire di tutto, fa sempre un po' di spiacere quando se ne vanno personaggi legati alla gioventù o legati comunque alla storia, al percorso che tanti di noi abbiamo fatto. Ma veniamo all'attualità. Allora, questa mattina ho letto uno scritto che riporta le parole di Mario Sconcerti sul mercato del Milan. Al nostro mercato il giornalista dà un voto 8, dettagliando poi la sua affermazione e appunto la sua assegnazione di questo voto molto alto. Dice, è stata la prima squadra a non far gestire ai giocatori chiusura di contratti importanti. Non ha perso Donnarumma, lo ha difeso fino a un confine, poi si è alzato dal tavolo e ha comprato al volo il suo sostituto. Mai far diventare un sentimento un giocatore, chiunque sia. L'amore è per la bandiera, non per chi la sventola. È un discorso molto attuale, nel senso che ci siamo trovati spesso a parlare della mancanza di bandiere, della mancanza di affezione da parte di tanti giocatori ai loro club. A un mondo che è diventato sempre più, come dire, totalmente devoto al denaro, non solo ovviamente nel calcio, ma in generale. E questa cosa ha contribuito alla perdita di molti valori, non solo nel calcio, ovviamente. Viviamo tempi molto particolari per tante ragioni dove valori che c'erano si sono persi, non sono ancora stati sostituiti. Ma insomma è una cosa normale che accade spesso quando ci sono anche dei ricambi generazionali, quando ci sono delle situazioni di un certo tipo anche nel contesto del mondo, da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico. E quindi dobbiamo fare naturalmente di conto con quello che è la società, con quello che viviamo, il tempo nel quale viviamo. Credo che sia un discorso condivisibile, almeno dal mio punto di vista. Sapete che io non ho mai, come dire, non mi sono mai schierato da una parte o dall'altra perché non ritengo giusto né criminalizzare coloro che decidono di impostare la loro vita o comunque di dare al denaro un valore più importante rispetto ad altri. Di dare al denaro il valore più importante è una cosa che non appartiene alla mia scala di valori, però ripeto è una cosa mia personale, molti altri invece ritengono che la decisione di tanti giocatori, di tanti calciatori di perseguire questa strada sia, come dire, spiacevole e anche in un certo senso contribuisca proprio al discorso che facevo prima, cioè al fatto dello sgretolarsi sempre di più di alcuni principi di vita, forse anche quasi etici sotto un certo profilo, che danno fastidio e che, come dire, tramutano la figura del calciatore in quella di un mercenario alla ricerca del contratto più alto. Nel caso specifico sono d'accordo sul fatto di non trasformare un giocatore, chiunque esso sia in sentimento, soprattutto in questi tempi, e l'amore per la bandiera non per chi la sventola. Anche qui sono d'accordo perché comunque riconducendo il tutto anche al famoso il Milan soprattutto, che è una frase di Maldini che io spesso ripeto perché mi sembra veramente un cardine fondamentale della nostra storia attuale e mi sembra anche uno dei pilastri sui quali costruire il Milan del futuro, cioè giocatori che vogliano, che hanno voglia, che vogliono partecipare, che vorranno partecipare a questa avventura, riuscendo a comprendere che magari la costruzione di un qualcosa di molto bello e potenzialmente vincente che nasce dal basso, che nasce attraverso la sua rinascita, può essere davvero un qualcosa di gratificante, che va oltre magari qualche milione di euro in più, che comunque poi nel corso di una carriera al calciatore possono arrivare in qualsiasi momento, se il calciatore è bravo, naturalmente. Per cui mi trovo d'accordo con questo, il discorso poi Donnarumma ma anche Ciaranoglu è un discorso di fermezza, credo, di condizione e anche di consapevolezza, perché non posso pensare che una società come Milan sia gestita da manager che non ritengono contabilizzabile lo zero alla voce incassi per quel che riguarda la perdita di due giocatori, quindi evidentemente i conti sono stati fatti, non credo che si sia lavorato con sufficienza, non credo che si sia lavorato nemmeno con presunzione, si è semplicemente stabilito che i parametri per i Milan erano quelli e oltre non si poteva andare. Lo stiamo vedendo anche adesso, probabilmente con la questione che sì, che è una questione delicata perché si mescola da un lato a dichiarazioni del giocatore esplicite riguardo alla sua intenzione di rimanere al Milan, dall'altro voci, o per meglio dire scritti, che appaiono abbastanza incontrollabili giorno dopo giorno perché si passa da cifre che salgono di un milione e due al giorno e quindi anche lì è difficile ritrovarsi ed è difficile capire dove veramente stia il punto. Quindi facciamo così, facciamo come sempre, aspettiamo le notizie ufficiali, nel frattempo commentiamo perché abbiamo l'esigenza dal punto di vista di tifosi e di opinionisti chiaramente di parlare di determinati temi perché ci stanno a cuore, perché fanno parte del futuro anche della nostra squadra ovviamente e anche di una situazione di stabilità all'interno dello spogliatoio che deve essere sempre garantita, quindi è probabile anche che certe scelte che sono state fatte ricadano anche nell'aver visto determinate cose, nell'aver percepito determinate cose che giustamente devono rimanere nell'ambito della camera caritatis all'interno dei corridoi di Milanello o di casa Milan e quindi si va avanti, insomma, seppur io comprendo che molti di voi non abbiano digerito la scelta del giocatore, molti di voi, o dei giocatori, molti di voi non abbiano nemmeno digerito la scelta della dirigenza, però questi sono ovviamente i punti di vista, ognuno suo è giusto così ed è il motivo per il quale noi siamo qui tutti i giorni a confrontarci sulle questioni del nostro Milan. Milan dice poi sconcerti è sulla stessa linea di Juventus e Inter, ma deve andargli tutto bene, ecco, deve andargli tutto bene secondo me si riassume in naturalmente un numero di infortuni decisamente inferiore rispetto alla scorsa stagione e anche poi il punto che segue, dice non ha riserve perché si è Benasser, qua poi il discorso andrebbe un po' ampliato sul sistema di gioco ma abbiamo visto che si sta lavorando anche a delle alternative, mi pare che, lo scopriremo naturalmente nelle prime giornate di campionato, mi pare che ci sia una direzione anche in questo senso intelligente nel cercare di andare come sempre a fare la cosa giusta nella scuola di calcio, cioè mettere i giocatori nella condizione di poter rendere al meglio. Dice non ha due riserve perché si è Benasser, ha due centralanti importanti e macchinosi, diciamo più che importanti e macchinosi ha due centralanti molto importanti, sia naturalmente Ibrahimovic che è un fuoriclasse, non è neanche un campione, è proprio un fuoriclasse, è un campione, un grande campione come Giroud. Macchinosi sì ma vanno riforniti nel modo giusto, soprattutto Giroud, sappiamo che Ibra è uno che fa anche da sé, sperando naturalmente di poterlo avere più volte possibile in campo, Giroud è uno che fa un po' meno da sé, ha bisogno anche di essere assistito in un certo modo, ma ieri mi pare che abbiamo avuto una buona risposta anche in questo senso. E poi dice può dipendere troppo da Braindias, avrebbe bisogno di 12 gol di Leao, gli mancano i gol imprevisti, su questo sono d'accordo. Indubbiamente una delle grandi variabili della nostra stagione e uno degli snodi fondamentali attraverso il quale passerà la nostra stagione sarà indubbiamente la capacità contributiva per quel che riguarda i gol da parte di Rebic, da parte di Leao, da parte di Braindias, da parte magari di Saleme Kerr, da parte magari del Mister X che arriverà, da parte dei centrocampisti perché l'anno scorso comunque tanto abbiamo avuto, anzi non è che abbiamo avuto, ci siamo presi una bella quantità di rigori e siamo stati bravi anche a trasformarli. Speriamo di continuare a prenderceli, però voglio dire quella è una variabile, invece noi dobbiamo avere un pochino più di certezze, quindi dobbiamo sperare veramente che Leao quest'anno, e punto soprattutto su di lui, possa trovare la sua dimensione, perché Rebic sappiamo che è un giocatore che può essere determinante, ma che storicamente, avendo ormai raggiunto la maturità calcistica, è un giocatore che ha un rendimento ridotto nel tempo, non è garanzia di continuità. Su Leao invece mi sembra che la direzione intrapresa, cioè quella di utilizzarlo come esterno d'attacco, sia la direzione giusta. Io l'ho sempre detto, personalmente l'ho sempre ritenuto un esterno d'attacco, non un centravanti, mi auguro che quest'anno non ci sia mai la necessità di doverlo schierare da centravanti, l'impostazione della squadra che abbiamo visto nell'ultima partita è quella di un Leao esterno d'attacco e mi sembra che i segnali siano, se non esaltanti, quantomeno incoraggianti in vista della stagione. È chiaro che se lui dovesse riuscire ad arrivare in doppia cifra, a 10-12 gol, vorrebbe dire veramente tanto, avendo quest'anno la possibilità di schierare un centravanti del livello di Giroud. A un gioco compiuto, dice Sconcerti, è stata costruita una squadra. Poi dopo è evidente che la squadra non è compiuta, ci vogliono ancora degli innesti, però siamo al 15 di agosto, aspettiamo fiduciosi le prossime due settimane che ci daranno risposte, ormai siamo agli sgoccioli, quindi vediamo un po' che cosa succede. Rivadisco il mio augurio di una buona domenica, di un buon ferragosto e aspetto i vostri commenti.